Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Si guarda ormai alla data del 18 maggio, in tanti ripartiranno, si riprende con diverse attività legate non solo al commercio ma anche alla ristorazione e ai bar, ma in tanti si stanno chiedendo come si devono attrezzare per sanificare i locali e poter finalmente riaprire le saracinesche dei propri negozi lunedì prossimo. Tutti vorrebbero però maggiore chiarezza sui protocolli da seguire, le misure di sicurezza da adottare per la salute dei clienti e dello stesso personale. Il primo servizio di oggi. Si riapre tra mille dubbi, tanta confusione e timori reconditi che le decisioni di oggi possono essere ribaltate domani o magari venerdì. Lunedì intanto è il giorno della riapertura in tutta Italia, il 18 è la data cerchiata in rosso per i commercianti che potranno finalmente rialzare le saracinesche. Sì, ma come? E con quali sistemi di sicurezza per i clienti, per se stessi e per gli stessi dipendenti? Ne abbiamo parlato con Sabatino, senatore titolare insieme ai figli del centralissimo Vogue a Piazza Malta a Salerno. Il responsabile CLAI, commercio e servizi provinciale, punta l'indice sul caos generato in questi giorni da chi avrebbe dovuto prendere decisioni e invece temporeggia creando solo tanta confusione tra i commercianti. Con tante incognite perché oggi è martedì, a ora non c'è nessun obbligo di non fare nulla, però stiamo partendo noi, ci stiamo attrezzando noi e come tanti altri colleghi a sanificare, a far ripitturare e basta, metteremo le mascherine, metteremo le visierine a tutti i collaboratori, ma proprio per far stare bene sì i nostri clienti, però l'assurdo è che noi oggi non sappiamo cosa fare domani e che non siamo gestiti noi bene perché noi vogliamo delle regole e che cosa fare? Punto, in questo momento non ci sta niente, si sa che forse venerdì dovremmo saperlo, ma noi lunedì dobbiamo aprire. Speriamo che ci sia, speriamo che ci sia, però ormai qua ci aspettiamo tutto di più, tanto ormai abbiamo capito che quello che fa la mano destra non lo sa la sinistra e noi stiamo nel caos più totale. Meglio non quantificare perché se no non apriamo più, ma è costato tanto, ma la cosa più brutta dei nostri collaboratori sono due mesi e la stacassa integrazione non arriva, è una cosa mostruosa. Come non sono arrivati i benedetti aiuti che dice il governo alle 600 euro? Le 600 euro non sono nemmeno arrivate, cioè praticamente la piccola e media impresa è il cuore pulsante di questa nazione. È bloccata completamente e tutto si fa forché dare aiuti concreti, sì, vedremo, faremo, facciamo, diciamo, vediamo, poi facciamo, ma quando? Arbitrariamente ci auguriamo che non si facciano delle cose scientifiche di questi professori, non facciano cose scientifiche impossibili per aprire lunedì, perché se no qua veramente mi sembra come se ci sia un disegno a uccidere la piccola e media impresa. Bravo, hai centrato, un negozio che sta chiuso da due mesi e mezzo non ha bisogno di essere sanificato, il problema che noi ci siamo posti, noi come azienda Vogue, è il 18 sera, per me e a me il problema è per i miei collaboratori, per noi, per la nostra salute, è sanificare il negozio il 18 sera, come sarà il 19, il 20 e il 21, ci stiamo attrezzando per sanificare il negozio tutte le sere, proprio per il bene dei nostri clienti e per il bene dei nostri collaboratori. E c'è chi invece anche in piena pandemia non si è mai fermato, ma che ora non trascura una serie di difficoltà nella ripartenza, tornare dal dentista non sarà facile, questo comporterà un brusco calo ai rischi per il personale degli studi medici. Il presidente della commissione dell'albo odontoiatri della provincia di Salerno, Gaetano Ciancio dell'ordine dei medici, questa mattina nel corso di una videoconferenza ha rilanciato una serie di proposte lanciate ovviamente al governo. Servono interventi strutturati e non provvedimenti di sostegno a pioggia. Sentiamo cosa ha dichiarato. Non una riapertura ma una ripartenza perché dentisti ed odontoiatri non hanno mai chiuso del tutto i battenti, garantendo ai pazienti i servizi essenziali durante tutta la fase del lockdown, anche nel pieno dell'emergenza Covid-19. Ci si prepara ora a tornare alla normalità, con le giuste cautele, con un protocollo aggiornato sul rischio biologico, perché proprio tutta la categoria ha da sempre lavorato con tutti i dispositivi che oggi invece sono resi obbligatori anche in altri ambienti. Così questa mattina in videoconferenza stampa il presidente della commissione dell'albo degli odontoiatri della provincia di Salerno, Gaetano Ciancio, che dopo l'ultimo confronto con il viceministro della Sanute, il senatore Pierpaolo Sileri, sulle indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia, ha voluto lanciare un appello proprio da Salerno, per sollecitare il governo ad un giusto sostegno alla categoria, che ora dovrà fare i conti con il rischio licenziamenti del personale degli studi e con costi elevati dei dispositivi di protezione individuali, che dovranno essere sostituiti continuamente. Servono provvedimenti strutturali, ha detto il presidente Ciancio, e non a pioggia nel medio-lungo tempo, come ad esempio l'eliminazione dell'accise dell'IVA, sgravi fiscali, sostegno per i contributi ai dipendenti. Parte da Salerno l'invito al governo, a cui pure va tutta la riconoscenza per quello che sta facendo e anche per i provvedimenti economici che sta mettendo in campo, magari però di tipo meno assistenzialistico se è possibile, è più strutturali. Evitare queste piattaforme su cui bisogna fare delle rincorse per arrivare al credito, dove non ci arriva nessuno. L'esempio è quello del bando Invitalia, che partito ieri si è immediatamente bloccato e in mezz'ora, un quarto d'ora, dai 50 milioni di euro disponibili, ha ottenuto una richiesta per miliardi di euro di richieste, per cui diventerà probabilmente non praticabile. Ma provvedimenti più strutturali, che tendono innanzitutto a salvaguardare i lavoratori, che potrebbero essere messi in crisi dalle difficoltà economiche del momento. Ad evitare i licenziamenti, perché appena finirà la cassa integrazione in deroga, si avvertirà in alcuni contesti, la necessità, purtroppo dettata dal mancato guadagno, provvedimenti strutturali che possono incidere proprio sui contributi dei lavoratori. Potrebbe essere un'ipotesi, sgravare completamente il dentista con un credito di imposta riguardo ai contributi che vengono ai lavoratori, in modo che continua a pagare i contributi, ma ne acquisisce un credito di imposta rispetto alle tasse che dovrà pagare nell'anno successivo. Con un contratto si impegna il dentista o un altro professionista per un anno o per due anni a non licenziare, e altrettanto si impegna il governo per un anno o per due anni ad accettare questo sgravio. Ovviamente su base volontaria, chi non volesse aderire, non sarà costretto a farlo. Bisognerà aggiungere qualche riga in più nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, dove si dice sgravio del 100% contribuzione, oppure credito imposto tal dei tali, nel momento in cui si accetta questo sgravio e questo vantaggio, allo stesso momento si accetta ovviamente di non licenziare per oltre due anni, per il periodo in cui si ottiene l'agevolazione. Sgravi fiscali, perché potrebbe esserci professionisti o dipendenti che non hanno, professionisti, dentisti o di altri naturi che non hanno dipendenti, e quindi potrebbero non beneficiare degli sgravi sui propri dipendenti, magari potrebbero beneficiare con degli sgravi fiscali. Una licuota ridotta per la loro fascia di reddito, in proporzione alla fascia di reddito che già hanno. Perché non faccio una proposta precisissima, ma parlo di sgravi strutturali? Perché il paese dei desideri non esiste, bisogna comunque confrontarsi col governo e cercare la strada più utile e più perseguibile. Ma bisogna farlo adesso, ci vuole il fumo su buono il uso, il naso del governante che deve incontrare direttamente i rappresentanti delle istituzioni. E da prescindere dalle fasi, è obbligatorio il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina. Il governo ha imposto un prezzo calmierato delle mascherine, proprio perché c'è la necessità anche di sostituirle frequentemente, a 50 centesimi, però ha dimenticato l'IVA. Le mascherine di questo tipo risultano introvabili, e c'è chi sostiene che non servano a nulla per arginare il coronavirus. Sentite cosa hanno dichiarato i nostri microfoni. Le mascherine non ci sono e servono a poco o a nulla. Almeno quelle a 50 centesimi che il governo ha promesso di far vendere a prezzo calmierato. Le chirurgiche risultano introvabili ed a quel prezzo non è stata aggiunta l'imposta del valore aggiunto. L'IVA, insomma, non è tutto. A fare luce e chiarezza sull'argomento è il professor Pasquale Lenza, titolare della farmacia Ferrara a Salerno. Le mascherine ci sono, ma non ci sono perché introvabili quelle della regione Campania o quelle che lo Stato vuole far vendere a 50 centesimi più IVA. Le spiego anche il perché. È abbastanza evidente che pagandole già i nostri fornitori 50 centesimi più IVA, dovrebbero darcele costo per costo, emettendo fattura e quindi pagandoci le tasse e ovviamente l'IVA. È evidente che noi comperandole dovremmo venderle ai 50 centesimi più IVA che lo Stato pretende e dovremmo poi farci rimborsare la differenza tra il prezzo di acquisto che ci fa il fornitore e il prezzo di vendita ridotto dallo Stato. Il problema è che però non si è ben capito come, perché facendo battuta di cassa noi andiamo a pagarci ovviamente le tasse sopra e ovviamente il corrispettivo dell'IVA. Si trovano le mascherie e peraltro hanno anche un'utilità abbastanza poco valida, molto limitata, perché perfino su quelle che la regione Campania ci manda e che noi abbiamo da dare a chi presenta un'esenzione per reddito. Noi dobbiamo andare su queste mascherine, portano la dicitura, attenzione, non proteggono le vie respiratorie nemmeno dalla polvere, ergo sono inutili. Una mascherina come quella chirurgica che lo Stato mette a disposizione, vorrei che fosse chiaro, preserva chi sta di fronte a me dalle emissioni di saliva che io posso ed emetto quando parlo, però se ho una mascherina di tipo chirurgico e lei ha una mascherina di tipo chirurgico, nessuno dei due è preservato dalle emissioni attraverso la respirazione di un eventuale virus, perché passa attraverso le maglie di quella mascherina e ovviamente passa attraverso quelle di chi ho di fronte. I dottori sono inutili? Sono praticamente inutili, servono semplicemente come prima difesa dalle emissioni di saliva. Noi abbiamo avuto una fornitura dalla regione Campania che ci ha dato queste mascherine da distribuire solo agli indigenti, cioè a chi presenta un certificato, un tesserino di esenzione per reddito. Quelle che dovrebbero essere messe a disposizione dello Stato, lo Stato non ne ha fornite ma ne ne fornirà. Ha detto voi ve le procurate, voi ve le vendete, noi vi diamo la differenza che avete pagato tra il prezzo d'acquisto e i 50 centesimi più IVA a cui dovete vendere. Non ce n'è, vi gliel'ho detto prima, non ce n'è disponibilità perché nessuno compra per rimetterci tasse IVA. È una richiesta continuativa anche perché nel mio caso, a maggior ragione, essendo una farmacia di passaggio vicino alla stazione, è normale che ho una richiesta enorme di questo tipo di mascherine. Quando io cerco di spiegarlo, più o meno sì, io cerco di spiegarlo anche ai miei clienti dell'inutilità di quel tipo di mascherine. Ma ripeto, se le prendo una di quelle che la Regione Campania mi dice di distribuire gratuitamente agli indigenti, c'è scritto chiaramente, c'è scritto in maniera chiara. Quindi si sta facendo, secondo me, un'informazione sbagliata perché si sta dicendo alle persone che non hanno tempo di entrare nel dettaglio tecnico se ti metti la mascherina sei preservato. Non è assolutamente vero, soprattutto con le mascherine di tipo chirurgico. E si celebra oggi la giornata internazionale dell'infermiere, una celebrazione istituita per ricordarci il valore svolto dai nostri eroi in corsia. Oggi impegnati nella lotta al coronavirus, ma ogni giorno accanto ai malati nella salvoguardia della salute pubblica. Ed anche Salerno per l'occasione ha voluto rendere un particolare omaggio. Un omaggio musicale agli infermieri dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Adolfo Stellato, infermiere dell'azienda, in video, accompagnato con la chitarra, la bella voce di Carmela Maisto, sulle note di Pino Daniele. Un contributo che vuole essere un messaggio di incoraggiamento e di solidarietà per tutti i colleghi impegnati in corsia, che racconta attraverso una sequenza di immagini, in modo particolare dal nostro comio di via San Leonardo, la quotidianità del loro lavoro durante i giorni più bui dell'emergenza coronavirus. Ed ora ci spostiamo nell'agro Nocedino Sarnese, in modo particolare a Scafati, dove ci sono nuovi posti letto per il centro Covid. Sentiamo. Una nuova aria con nuovi posti letto. Al Covid Hospital di Scafati, dalle prossime ore, sarà operativa una nuova aria, in carico sempre a malattie infettive, in cui saranno accolti però solo i pazienti positivi al coronavirus, che non saranno più dunque nell'attuale reparto, che accoglierà invece solo i casi sospetti. 30 complessivamente, tra vecchi e nuovi, posti letto a disposizione dei sanitari, diretti dal primario Mariano Currado, in stretta sinergia con la caposala Lucia Enrico. Si gestiranno ora in pratica due aree. Una con 20 posti letto accoglierà i contagiati accertati. L'altra aria, di fronte in pratica, con 10 posti letto, ospiterà invece solo i casi sospetti per i quali si attende l'esito del tampone e l'aria che già era in uso. Prima erano in pratica in un unico comparto, ora in due distinte aree, entrambi in capo a malattie infettive. Una disposizione che consentirà di liberare più rapidamente le postazioni del pronto soccorso dello Scarlato e di ricevere più rapidamente anche i trasferimenti dall'ospedale di Nocera. Ospedale in cui, parliamo in questo caso dell'Umberto I, l'equip del dottor Francesco Lamura, medico di pronto soccorso e responsabile dell'area in questione, continuerà a gestire, come accade ormai da circa due settimane, l'area multidisciplinare per pazienti sospetti indirizzati per urgenze ad altre unità operative, come chirurgia, cardiologia, ginecologia e pediatria. Giorni di lavoro intenso anche per gli arrivi ordinari al pronto soccorso dell'Umberto I, diretto dal primario Giovanna Esposito. Sono tornati in pazienti che sembravano scomparsi nella fase 1. Nei punti Covid pre-triage, sempre in carico al pronto soccorso di Nocera, pomeriggio e notte tranquilla. Insomma, una situazione stazionaria. Mentre, tornando a Scafati, in malattie infettive, dopo qualche giorno dall'avvio della fase 2, sarebbero aumentati i numeri di positivi ricoverati. Due tamponi hanno confermato il contagio nella sola giornata di ieri per altri due ricoverati. Insomma, l'emergenza, anche dai sanitari in arriva alla conferma, non è affatto terminata. E all'ospedale di Sarno, invece, vengono istituiti quattro nuovi posti letto per l'osservazione breve. Sentiamo. Si è operativi dalle 8 di questa mattina. È ufficialmente aperto il punto di osservazione breve Covid all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. Quattro posti letto per ospitare eventuali casi sospetti per i quali si attende l'esito del tampone prima del trasferimento nel reparto di riferimento. Saranno attivi quattro posti letto, praticamente, di osservazione breve, al secondo piano, sulla direttrice che dal pretriage poi arriva... Cioè, non passeranno per il pronto soccorso. Praticamente passeranno per il pretriage, saranno pretriageanti. Sì, sì, sì. dovranno eseguire sia test rapidi che tampone e poi, posizionati al secondo piano, abbiamo attivato queste quattro postazioni per l'osservazione dei pazienti in attesa dell'esito del tampone. Perché altrimenti sarebbe comunque un rischio subito direzionarli in sala operatoria e in reparto. Per cui la gestione per questi quattro posti, tra virgolette, sarà di tipo infermieristico con personale che la direzione sanitaria, insomma, di concerto con il pronto soccorso ha reclutato. Quindi avremo un infermiere e un operatore socio-sanitario H24. Mentre la gestione clinica, cioè medica, sarà di competenza dei vari reparti. I pazienti passeranno prima al pretriage Covid e vi sarà poi l'eventuale dirottamento al secondo piano. E per ricevere più rapidamente possibile l'esito dei tamponi, li si sta dirottando soprattutto a deboli. Adesso, devo dire, noi proprio per ovviare a questo sovraccarico dei ruggi, con grande spirito di collaborazione da parte dei collaboratori di Eboli, con cui c'è un ottimo rapporto. In questa fase stiamo direzionando i nostri tamponi anche e soprattutto all'ospedale di Eboli perché i tempi sono più corti, più ristretti, per cui ci consentono di avere l'esito in maniera più rapida. Al momento, l'ospedale di Sarno ha ancora un carico di pazienti maggiore per la chiusura nocera di chirurgia ed ortopedia. Questione di poco e si riaprirà, conferma però il direttore sanitario del DEA nocera Pagani Scafati, Maurizio D'Ambrosio. E c'è un'altra emergenza che è diventata un'emergenza nell'emergenza durante il periodo del coronavirus, un'assenza nei reparti dedicati di donazioni di sangue. E così sabato e domenica prossima c'è un'iniezione di solidarietà nel comune di Pellezzano perché presso la sede dell'Avis nel comune della Valle dell'Irno si terrà una maratona del dono del sangue. Sentiamo. C'è passione e tanto, tanto amore per il prossimo. Nella lodevole iniziativa portata avanti dai volontari dell'Avis del comune di Pellezzano sabato e domenica prossima e per la prima volta in tutta la regione campana in tempo di pandemia ci sarà una vera e propria maratona del dono del sangue. Ne abbiamo parlato con Donato Landi, uno dei fondatori dell'Avis di Pellezzano, anima e motore di tante iniziative di beneficenza del comune della Valle dell'Irno. Cari amici della Valle dell'Irno di Pellezzano, giorno 16 e giorno 17, dopo tre mesi che non abbiamo fatto donazione, finalmente con l'accordo dell'ospedale di Salerno, Ruggi d'Aragona, insieme al centro trasfusionale di San Leonardo, iniziano di nuovo le donazioni. Però purtroppo questa volta sono donazioni che si prenotano. Praticamente non è più come una volta, bisogna prenotare la donazione, vi dirò tutto successivamente sui vari social, sui vari web, la prassi di come fare la donazione. Mi raccomando, non abbandoniamo questi bambini, non abbandoniamo queste persone anziane che hanno bisogno del nostro sangue. Il sangue è un dono prezioso, un gesto così nobile e silenzioso che combiace gli occhi di Dio. Grazie di cuore, seberete tutti quanti. Da ogni parte della Valle dell'Irno, dalla provincia di Salerno, perché mi hanno autorizzato solo dalla provincia di Salerno. Ancora sono visibili cingoli dei mezzi usati dagli addetti della Salerno Pulita per lo spianamento e la pulizia del litorale costiero a Salerno. Sebbene stamattina le condizioni di meteo hanno in parte coperto il lavoro fatto nelle ultime 24 ore, le spiagge in città hanno dimostrato di essersi date una ripulita. Nonostante un'onda di quasi mezzo metro che si è ripresa anche un po' di costa, l'operazione di spianamento e pulizia degli arenili di Salerno si è rivelata efficace. In mattinata, come dimostrano le immagini, gli addetti della partecipata del Comune di Salerno hanno lavorato sul tratto di spiaggia che va da Torrione al Grand Hotel. Una sistemazione dell'arenile con tanto di pulizia di rifiuti e detriti in vista dell'imminente stagione estiva e ci si augura dell'apertura della balneazione. Per il momento Salerno Pulita ha svolto un'attività straordinaria che proseguirà anche su altre spiagge del litorale costiero. Ad estate inoltrata la pulizia e lo svuotamento dei cestini saranno effettuati tutti i giorni. Parliamo ora di cronaca. Tre arresti per spaccio tra Capaccio e Deboli. Sono stati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo ad arrestare tre persone e tre fratelli domiciliati ad Eboli che detenevano sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Agropoli coordinati dal capitano Fabio Lagarello hanno tratto in arresto tre cittadini extracomunitari per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di mirati controlli sul territorio di competenza i militari della stazione di Capaccio Scalo diretti dal maresciallo Giuseppe D'Agostino con l'ausilio del nucleo cinofili di Sarno hanno sottoposto a perquisizione ieri sera l'abitazione dei tre fratelli Puscher tutti incensurati ma con il permesso di soggiorno scaduto sito al confine tra i comuni di Capaccio e Pestum e Deboli precisamente tra le località Ponte Barizzo e Santa Cecilia. All'interno i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato circa 90 grammi di marijuana bilancini di precisione materiale utile al confezionamento delle dosi e 4.000 euro in contanti quale presumibile provento dell'illecita attività di spaccio di droga. I tre Puscher sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo corrito direttissimo. Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni dove il comune della cittadina metelliana ha trovato un accordo per quel che riguarda gli avvisi di pagamento che erano arrivati dall'Ausino. Sentiamo. Il comune di Cava dei Tirreni e l'Ausino la società che gestisce il servizio idrico integrato anche nella città metelliana dopo messi di trattative hanno trovato un accordo sulle partite debitori e creditore al 31 dicembre 2018 il comune ha un debito di poco più di 179.000 euro nei confronti di Ausino che pagherà in tre rate annuali a partire dal 2021 di circa 60.000 euro. Dalla verifica dei crediti e debiti reciproci infatti era emerso un evidente disallineamento tra quanto risultava alla contabilità del comune e quanto risultava alla contabilità di Ausino. Se da un lato l'ente sosteneva di vantare un credito di circa 32.000 euro alla società partecipata preseduta da Mario Anna Grusta risultava invece che il comune fosse debitore nei suoi confronti di circa 444.000 euro. Già nei mesi scorsi le parti avevano avviato delle trattative finalizzate alla riconciliazione delle reciproche partite debitori e creditorie. In seguito a diversi incontri il comune e la società Ausino avevano predisposto un apposito verbale nel quale erano state riconciliate le discordanze risultanti dalle rispettive contabilità fatta eccezione per due crediti vantati dall'ente ma contestati dall'Ausino. Nello specifico si trattava dei canoni di fitto del piano seminterrato dell'ex circoscrizione di pregiato per il periodo settembre 2013-dicembre 2018 per circa 195.000 euro e per i lavori di via 25 luglio eseguiti in danno dal comune per 86.000 euro credito a questo contestato da Ausino in quanto riteneva che gli interventi eseguiti non fossero addebitabili alla società. Al fine di dirimere la controversia le parti avevano concordato di far definire le partite non riconciliate ad un organismo tecnico. In pratica tale collegio doveva determinare il valore locativo dell'immobile e stabilire se i lavori eseguiti in via 25 luglio fossero in tutto e in parte addebitabili al gestore del servizio idrico integrato. L'organismo tecnico ha rassegnato le sue conclusioni con un'apposita perizia stilata nel dicembre 2019 con il dissenso però del componente nominato dal comune in particolar modo per quanto riguarda i lavori in via 25 luglio che non possono essere messi nell'azione con cedimento o disfunzione della condotta fognaria ma sono ricollegabili con molta probabilità ad un vizio originario di esecuzione da parte della struttura commissariale per il disinquinamento del fiume Sarno. Alla fine l'accordo è stato raggiunto con la ripartizione del 50% dell'onere dei lavori. Come dicevamo la data di lunedì 18 è una data importante perché c'è la ripresa per tante attività e c'è la ripresa anche in maniera ufficiale per la Salle Unitana ma ne parliamo tra pochissimo subito dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo a tra poco. Grazie a tutti. Oltre scuola per estetista biegno e specializzazione Tecno Scuola e a Battipaglia e a Salerno Tecno Scuola.it Previsioni per domani Al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna bel tempo con cieli sereni o velati Nel pomeriggio sulle coste schiarite con transito di velature sparse in montagna schiarite con transito di velature sparse Previsioni del tempo fornite da Trebi Meteo Siamo a una pagina dello sport come dicevamo anche il pallone comincia finalmente a rotolare la Salernitana riprenderà ad allenarsi stavolta in maniera ufficiale lunedì prossimo in gruppo Almeri Rosi Granata lo stavano già facendo dalla settimana scorsa anche se il club ci aveva tenuto a precisare che si trattava di allenamenti facoltativi intanto Gijek sogna la serie A sentiamo Il 18 si riparte da lunedì allenamenti finalmente ufficiali per la Salernitana così come per tutti del resto i Granata torneranno ad allenarsi in gruppo Almeri Rosi ieri il comitato tecnico-scientifico del governo ha posto i paletti da inserire nel protocollo di ripresa collettiva dalla FIGC parola d'ordine prudenza forse ritiro addirittura il ministro Spadafora non ne fa menzione mentre Sandra Zampa sottosegretario della salute parla di un grande ambiente sterile in cui entreranno giocatori e staff dovranno restare in isolamento come una grande famiglia tutelerà la loro salute ma serve un grande sacrificio e assunzione di responsabilità da parte delle leghe la Salernitana resta alla finestra sa che dovrà sottoporre i suoi tesserati a tamponi e tessi aerologici e si è già attivata in tal senso due anticipazioni da Spadafora la responsabilità dell'osservanza del protocollo in capo ai medici sociali e la quarantena di 14 giorni per tutto il gruppo in caso di positività accertata durante gli allenamenti collettivi ecco perché sarà fondamentale superare la fase di ri-atletizzazione senza ostacoli in modo da arrivare pronti per quanto riguarda la B naturalmente a fine giugno per ricominciare il campionato i calciatori potrebbero accettare di buon grado la clausura almeno per la prima parte ieri l'associazione italiana calciatori si è riunita in direttivo e qualcuno ha registrato perplessità sulla possibilità di un ritiro da mantenere anche alla ripresa del campionato per ora però neppure il governo ha affrontato il problema dati epidemiologici alla mano aspetteremo ancora una settimana e poi decideremo anche sulle competizioni agonistiche anche ieri i Granata hanno effettuato il lavoro individuale a turni almeri rosi ma in maniera ufficiosa tanti approfittano delle minori restrizioni per godersi la primavera di Salerno come Caro e Gijek quest'ultimo nei giorni scorsi ad uno dei principali quotidiani sportivi polacchi ha svelato di aver trascorso la quarantena a guardare le partite di De Rossi lo staff dice mi ha consigliato di studiarne i movimenti voglio prendere esempio dal meglio la bandiera romanista fa scuola al regista di proprietà della Lazio sarò felice di lottare quanto prima per un posto in A dando uno schiaffo morale alle persone che hanno parlato male di me ha raccontato in estate avevo anche un'offerta dalla Lokomotiv Mosca ho scelto l'Italia perché nella top 5 europea anche se in Russia avrei guadagnato di più magari i soldi arriveranno più avanti ora è più importante la crescita il mio obiettivo col prestito a Salerno era imparare il calcio italiano a qualcuno può far ridere il fatto che sia serie B ma è davvero un torneo impegnativo in Italia è prassi che un giocatore prima di approdare in massima serie muove i primi passi in serie cadetta a breve si tornerà a rincorrere il pallore per ora solo in allenamento prima dell'interruzione conclude Zizek durante le sedute percorrevo in totale 12 chilometri ad alta intensità non avrò problemi a giocare ogni 3-4 giorni spero che prima o poi si torni in campo vogliamo lottare per la promozione ed il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo a partire dal prossimo 18 maggio purché si rispetti lo stringente protocollo di sicurezza per limitare i rischi attraverso un comunicato il comitato ha elencato i punti salienti del protocollo in questione pur ribadendo che la documentazione della FIGC fornite è largamente lacunosa ed imperfetta si legge nella nota e che non si sono avuti riscontri adeguati ai rilievi sollevati e ribadendo che la realizzazione dei test molecolari sulle persone interessate alla ripresa degli allenamenti di squadra non devono minimamente impattare sul reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni del paese si riconosce l'importanza che questo sport riveste il comunicato del comitato tecnico scientifico prende atto che gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del percorso relativo alle attività agonistiche il proposito di mettere in quarantena non solo gli atleti ma tutto il personale che fa parte di una squadra medici sociali massaggiatori fisioterapisti cuochi e figure varie può rendere la ripresa degli allenamenti di gruppo medicalmente coerente con le indicazioni già fornite dal comitato in merito alle misure per il contenimento epidemico ed ancora si sottolinea che per avere efficacia le misure di quarantena volontaria devono essere stringentemente rispettate sotto la responsabilità del medico sociale e del medico competente è necessario che tuttavia qualora durante il periodo di applicazione delle misure previste in caso di quarantena volontaria da rispettarsi sotto la responsabilità del medico sociale anche un solo membro dell'equip risulti positivo tutti gli altri membri dovranno obbligatoriamente sottoporsi a isolamento domiciliare per i successivi 14 giorni così conclude la nota del comitato tecnico scientifico che lo ribadiamo ha dato il via agli allenamenti di squadra noi ci fermiamo qui al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale in ogni caso agli aggiornamenti all'informazione continua sul nostro sito internet e sui nostri profili social a me non resta che ringraziarvi per averci scelto e augurarvi un buon proseguimento arrivederci vuoi rivedere questo programma visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand e clicca su e clicca su e clicca su Grazie a tutti.